Buonasera, ben ritrovati al telegiornale di Canale 3. È stato un capodanno col segno positivo quello di Siena. Tutti gli eventi del 31 dicembre hanno registrato un grande successo e c'è stata una grande affluenza di visitatori, di turisti in tutti i giorni delle feste. Quindi un bilancio positivo per la città. Positivo anche per le 80 febbre che colgono l'occasione per mandare un messaggio di ringraziamento all'indomani della grande lunga notte di San Silvestro. Grazie a tutti i senesi e visitatori che hanno voluto divertirsi insieme a noi fino a tardanotte ballando e cantando in Piazza del Campo. Dicono i membri del famoso gruppo La Realtà Senese che ha conquistato il pubblico la notte del 31 dicembre e non soltanto perché fa ballare e divertire ormai da diversi anni tutti i senesi. Il successo più importante è stato quello di vedere persone di ogni età divertirsi grazie alla musica. Per noi si è trattato del terzo Capodanno in Piazza del Campo e ogni volta è un'emozione nuova vedere così tante persone che hanno voglia di scatenarsi. Il colpo d'occhio della piazza piena di gente fino a tardanotte ci rende orgogliosi e per questo vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del Capodanno 2019. Sentiamo il servizio di Emilio Mariotti. Il Capodanno diffuso è piaciuto ai senesi e ai turisti. Per il passaggio tra il 2018 e il 2019 si sono visti in città molti visitatori, come del resto registrati anche negli scorsi anni, che hanno approfittato delle differenti opportunità di divertimento proposte dal comune e dai locali privati. Se l'evento principale del Capodanno è rimasto il concerto in Piazza del Campo, con Alex Britti forse più bravo come strumentista che come autore di canzoni, le novità, o almeno un ritorno al passato, sono state le esibizioni live in Piazza del Mercato, Piazza Indipendenza e Piazza Tolomei, organizzate dall'Associazione Propositivi. Queste piazze, oltre ai palchi per i concerti, erano allestite degli stelle per lo street food. Ritornando a quello che è accaduto in Piazza del Campo dopo il brindisi di Britti con il sindaco De Mossi, l'assessore Tirelli e la band senese del schema che ha aperto la serata, da registrare il successo ottenuto dal collettivo di DJ 80 Febri che, accompagnati dal vocalist e presentatore Giacomo Muzzi, hanno fatto ballare fino a tardi i presenti. I controlli nelle piazze da parte di steward e forze dell'ordine sono stati tanti e hanno garantito che tutto si svolgesse in tranquillità. Come è andato il Capodanno? Il bilancio lo fa anche l'assessore al turismo Alberto Tirelli e i microfoni della nostra Viola Carignani. Assessore, un bilancio sull'ultimo dell'anno, come è andata? Lei ha fatto le ore piccole per controllare che in tutte le piazze funzionasse il divertimento? Sì, diciamo che c'era tanta tensione, soprattutto da parte mia e da parte del sindaco, che tutto si svolgesse nel miglior modo possibile. Abbiamo registrato un ultimo dell'anno, come il sindaco stesso l'ha definito, meraviglioso, perché le presenze sono state numerosissime, al di là di ogni aspettativa, non solo in piazza del campo, ma in tutte le altre piazze dove l'amministrazione comunale aveva organizzato altre iniziative. E al tempo stesso si è riscontrato un grande livello di civiltà di coloro che hanno partecipato. Nessun botto in piazza del campo, nessuna bottiglia rotta. E dico, insomma, questo ultimo dell'anno l'ha vinto l'amministrazione comunale, ma l'hanno vinto in particolare i senesi e la città di Siena. A conclusione dei numerosi eventi per le festività di Natale e Capodanno organizzati dall'amministrazione comunale, il prossimo 6 gennaio Piazza del Campo ospiterà ulteriori iniziative, tantissime, dedicate ai più piccoli. Sarà la giornata conclusiva con l'epifania in Piazza del Campo. Quest'anno abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione agli appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, sia per offrire occasioni di svago ai senesi, sia nell'ottica di incentivare le presenze turistiche, che ha detto l'assessore al turismo e commercio Alberto Tirelli. L'obiettivo è quello di rendere sempre più vivo il centro storico, animarlo con eventi che possano incontrare il favore di residenti e visitatori. Lo abbiamo fatto con le iniziative del Natale, con il grande concerto in Piazza del Campo e gli altri appuntamenti di Capodanno. Lo faremo anche il prossimo 6 gennaio con la Befana. Domenica l'appuntamento sarà con volare o a cavallo di una scopa, un ricco cartellone di eventi gratuiti in Piazza del Campo. Un pomeriggio di divertimento è realizzato in collaborazione con Extempora, dedicato all'arrivo della vecchietta piomata dai bambini, che andrà avanti dalle 14.30 fino alle 18, tra percorsi e ostacoli a cavallo di scopa e volanti, laboratori creativi, spettacoli di equilibrismo e clown. A a a cercasi Befana sarà lo spazio in cui poter scattare foto con costumi, gadget, accessori, befanosi. Sarà possibile travestirsi da Befana o Befano per farsi immortalare in questa occasione speciale. Lo spazzacamino ufficiale della Befana inviterà i bambini e le loro famiglie ad entrare nella grande cornice scenografica dei selfie con l'immancabile cappello alla romana. Durante il pomeriggio inoltre si potrà affrontare un percorso di ostacoli a cavallo di una vera e propria scopa volanti. Sarà una gara contro il tempo da affrontare con la miniscopa, la scopa gigante, la scopa bus, la velocissima Nimbus 2000 oppure optare per un trasporto di gruppo con la scopa sharing. Con il gioco dell'oca in formato gigante i bambini si trasformeranno in pedine umane con lo scopo di raggiungere per primi la casella finale. E poi ancora all'interno del cortile del Podestà di Palazzo Pubblico si terrà cosa bolle nel calderone, uno spazio nel quale i bambini potranno entrare per ascoltare gli aneddoti che il gatto nero, amico fidato e portafortuna della Befana, che avrà da raccontare tra gag, sorpresi e giochi d'ingegno. In piazza del campo verranno inoltre allestiti i Befanart, cioè laboratori creativi per chiunque si senta un artigiano con le idee più colorate e per aggiustare le scarpe rotte della Befana o inventarsi qualsiasi cosa con calze, calzini, calzettoni, colla, forbici eccetera. A Fonte Gaia alle 15 e alle 17 ci saranno le acrobazie con le scopre di Equilibrium Tremens. Tobia Circus presenterà uno spettacolo innovativo in cui delle comuni scope porteranno gli spettatori del mondo assurdo di Filippo e Sutillo, un gentiluomo magro e agile che ama ballare. L'elegante protagonista è affascinato dall'idea dell'equilibrio e vuole sfidare la forza di gravità. Uno spettacolo di equilibrismi dal clima surreale in cui si susseguono colpi di scena e trovate inaspettate. Alle 16 sempre a Fonte Gaia lo spettacolo di Mortimer, il marito fachiro della Befana, tra bottiglie che non si rompono, torcette infuocate e altre idee. Per ogni età con l'arte del fachirismo un lavoro attoriale di creazione dei personaggi e la regia di Peter Weiss. Alle 17.30 tutti col naso all'insù per la grande conclusione della giornata. assistere alla consuetta discesa della Befana dalla torre del Mangia, che porterà le calze con dolce e carbone a tutti i bambini presenti. Un appuntamento che come ogni anno è organizzato dal corpo dei Vigili del Fuoco di Siena. E allarme cinghiali dopo l'ennesimo incidente avvenuto sulla A1 che ha causato una vittima e dieci feriti, tra cui tre bambini. Coldiretti lancia l'allarme per gli ungulati che continuano a far registrare danni e soprattutto incidenti. L'escalation dei danni, dell'aggressione e degli incidenti che causano purtroppo anche vittime è il risultato dell'incontrollata proliferazione degli animali selvatici con il numero dei cinghiali presenti in Italia che ha superato abbondantemente il milione, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alla città. La sicurezza delle aree rurali e urbane denuncia l'associazione è a rischio per il loro proliferare con l'invasione di campi coltivati, centri abitati, strade e autostrade dove rappresentano un grave pericolo per cose e persone. Gli animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in quasi 100 milioni di euro l'anno, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime. Non è quindi più solo una questione di risarcimento, ma è diventato, aggiunge ancora la Col di Retti, un fatto di sicurezza delle persone che va affrontato con decisione. Ora non ci sono più alibi per intervenire in modo concertato tra ministeri e regione e avviare un piano di abbattimento straordinario senza intralci amministrativi. Apertura dei saldi in tutti gli esercizi commerciali d'Italia e in Toscana si comincia sabato 5 gennaio. Sentiamo il servizio. Sabato 5 gennaio iniziano in tutta la Toscana i saldi invernali. È tempo di acquisti, tuttavia le associazioni di categoria non si aspettano grosse novità rispetto agli anni scorsi. Per ConfCommercio il 75% dei negozianti si aspetta un risultato analogo a quello dell'anno scorso, mentre il 15% prevede un miglioramento degli affari con un più 5% o addirittura più 10% di vendite. Il resto invece prevede un lieve calo. Per ConfCommercio la spesa dei toscani sarà di circa 167 euro a persona, per ConfEsercenti di 122 a persona e 280 a famiglia. Prodotti più gettonati, maglie griffate e stivaletti, mentre per i colori la moda dice senape, arancio e giallo. Sia ConfEsercenti che ConfCommercio hanno sottolineato che il mercato dei saldi risente delle promozioni estese a tutto l'anno e del Black Friday, che a novembre ha fatto aumentare il fatturato ma con ricavi non eccessivi. Nuove modalità di vendita che, per le associazioni di categoria, dovrebbero spingere a ripensare tempi e modi di sconti e promozioni. Apertura dei saldi quindi anche a Siena, ma che cosa ne pensano i commercianti e anche il pubblico? Sentiamo il servizio realizzato questa mattina. Rispetto a un dato dato dall'anno scorso, molto meglio, però è stato un Natale un po' triste perché non siamo stati aiutati dal Comune, anche il parcheggio è stato chiuso svariate volte, sia per le partite, per i vari eventi che hanno fatto e questo non ci ha aiutato. Sicuramente tante persone si saranno mosse a giro per i centri commerciali, dato che anche il 23, insomma, cadivano di domenica e sabato, quindi molta gente si sarà spostata fuori. Sì, diciamo è andata bene rispetto all'anno scorso, però poteva andare molto meglio. La gente è abituata a trovare saldi un po' dappertutto, ovunque, soprattutto anche sotto Natale e quindi, insomma, secondo me potrebbe andare meglio se fosse un po' più regolamentata questa situazione di saldi al di fuori del normale. I saldi iniziano ufficialmente sabato, poi in realtà così non è e quindi purtroppo la regolamentazione dei saldi è una cosa un po' ormai diventata una piaga nel commercio. Il saldo comincia sempre prima, penalizza le vendite poi naturalmente a piena stagione, naturalmente fosse per me, io infatti ritornerei alla vecchia maniera di fare saldi, ovvero un mese solo ma a fine stagione, perché veramente il saldo dovrebbe essere di fine stagione, non di inizio stagione, però tutti si sperano comunque nei saldi e sabato, insomma, perlomeno i primi giorni si lavorerà senz'altro, sarà una cosa ben accetta dai nostri clienti. Direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti, il libro a Natale risulta sempre essere un regalo molto piacevole per le persone, quindi diciamo siamo contenti, in particolare posso dire che l'editoria locale è andata molto bene, ci sono un sacco di editori e di libri sulla storia di Siena, sia per grandi che per bambini, che devo dire che quest'anno sono stati veramente un punto di riferimento, per cui insomma un Natale soddisfacente per le librerie, non penso soltanto anche a livello locale, ma credo a livello nazionale. Ma le scarpe soprattutto, biancheria, giacconi, se si trova l'occasione giusta, prezzo buono, giusto e di qualità. Anche se noi non siamo assolutamente interessati in prima persona ai saldi, perché il nostro non è un negozio da saldi di fine stagione, noi vendiamo un articolo che dura 12 mesi all'anno se Dio vuole, però i saldi di fine stagione comunque creano uno spostamento dei flussi, perché c'è una fascia di popolazione che è concentrata sull'acquisto di determinate cose e quindi trascura tutto il resto. Questo succede un po' a tutti i settori come il nostro, che non sono direttamente interessati, ma risentono di questi spostamenti. Che cosa potrei dire dei saldi? Dei saldi posso dire solo malissimo, perché così come sono congegnati e quindi creano a mio avviso solo un danno agli esercenti. Prima di tutto perché sono ormai troppo a ridosso delle festività in questo caso e dell'inizio della stagione, cioè della stagione estiva, i saldi estivi. Ormai tutti si tende ad aspettare per comprare qualcosa all'inizio dei saldi. Cosa significa? Significa che mi metto nella condizione di quello che vende l'abbigliamento, le scarpe o gli accessori. Io acquisto un prodotto per poterlo mettere sul mercato, per poterlo vendere al prezzo giusto, regolare, per poterci guadagnare. D'altra parte noi siamo qui per fare questo, noi per vendere e per guadagnare il nostro stipendio viene dalle nostre vendite. Se tutti aspettiamo i saldi, io a prezzo pieno non riesco a vendere niente. Quindi alla fine sto 10 ore in negozio, quando va bene, a volte ce ne sto anche 12 per fare cosa? Per passare un prodotto dall'azienda al cliente finale. Non è possibile, c'è qualcosa in questo meccanismo che va corretto, che non può funzionare. Io credo che le associazioni di categoria, prima di tutti, che hanno voce in capitolo, che possono far pesare la voce dei loro iscritti, dovrebbero iniziare a fare un ragionamento su questo tema. Si sono conclusi i lavori di restauro dell'altare dei Santi Pietro e Paolo, posto nella navata sinistra della cattedrale in Duomo, all'altezza del pulpito di Nicola Pisano. Questo restauro si accompagna al cantiere ancora aperto all'interno della libreria Piccolomini. Ne parliamo insieme al Rettore dell'Opera Metropolitana, Gianfranco Indrizzi. La fine del suo mandato è costellata da una serie di interventi. L'ultimo in ordine di tempo è il restauro all'interno del Duomo, dove ci troviamo in questo momento, è il restauro dell'altare dei Santi Pietro e Paolo. Quali sono stati gli interventi, i tempi e anche i costi di quest'opera? Gli interventi sono iniziati l'8 giugno e si sono conclusi il 21 dicembre, quindi sei mesi in cui sono state impegnate tutte le nostre maestranze, i nostri restauratori del Lapidio, quelli del Ligneo e ovviamente anche dei collaboratori esterni come l'autore del restauro della tela di Salvatore Di Pietro Fontana, un pittore veneziano che a un certo punto abbandonò l'opera e fu affidata a Raffaello Vanni, niente meno che a Raffaello Vanni. Un'opera che risale alla metà del 1600 e che viene descritta minuziosamente, parlo dell'altare nel suo complesso, da Alfonso Landi che fu un professore all'università, allo studio di Siena e che nell'opera che sostanzialmente è il primo elenco delle opere di Siena e si chiama Il racconto del Duomo, fu completato nel 1655, l'anno in cui salì al soglio pontificio Papa Alessandro VII, quindi a maggior ragione è un vanto Papa senese, Papa Alessandro VII, per il quale allestiremo a marzo una mostra in cripta dedicata a lui e ai reliquiari che appartengono alla sua epoca. Bello, sarà una mostra quindi che coinvolgerà un po' tutta la provincia partendo da Pienza? No, cercheremo di utilizzare anche per lo spazio ristretto che rappresenta appunto il sito della cripta, della cosiddetta cripta, cercheremo di utilizzare le opere che già sono presenti qui e sono tante, la curerà il professore Angelini con il quale siamo in diretto contatto, costante contatto. Dicevo i costi, noi li abbiamo inseriti nel complesso dei costi sostenuti nell'anno 2018 che rappresentano circa 1 milione e 200 mila Euro investiti in restauri. Insomma una somma ingente, ma anche perché vorremmo farlo vedere ai nostri spettatori, dal pubblico sono stati portati a nuova luce, a nuova vita anche i marmi rossi, i marmi gialli, scuri oltre la tela. Alfonso Landi le fa una descrizione precisa e anche piuttosto suggestiva dicendo quello che aveva impiegato lo scalpellino senese Antonio Di Carlo Fancelli quando appunto l'aveva costruito su commissione della congregazione di San Pietro, che era l'unica congregazione formata tutta da religiosi in città. Abbiamo poi ovviamente un altro bel gruzzolo da investire nel 2019, sono circa 3 milioni e 695 mila Euro che abbiamo stanziato a bilancio preventivo e fanno parte di una spesa complessiva di 8 milioni e 9 che costituiscono gli investimenti pluriannali destinati alla sicurezza e al restauro delle opere d'arte del complesso monumentale. Tra le grandi opere di restauro che ci sono all'interno del Duomo vale la pena ricordare anche quella all'interno della libreria Piccolomeni che è ancora in corso, ma intanto vediamo già i primi risultati perché qui possiamo vedere la differenza tra la parte restaurata e la parte invece che deve avere ancora è il restauro, Rettore. Certo, sì anche questa è un'opera eseguita esclusivamente dalle nostre maestranze, da Stefano e Daniele Butti, Stefano tra l'altro ha ricevuto la qualifica di restauratore recentemente e noi ne siamo contentissimi perché a lui si affiancano anche due lapide, i Galgani e Casini che anche loro hanno avuto la qualifica, quindi sempre maggiore professionalità da parte delle nostre maestranze. Il lavoro è iniziato a metà del 2018 e proseguirà ovviamente fino a un certo periodo, penso all'estate del 2019, è stata già eseguita gran parte di questa parte che è la parte sinistra entrando e come vedete c'è un cantiere anche nella parte destra dove stanno lavorando i nostri linei. Maggiore soddisfazione sono al lavoro al cantiere, sì, nonostante il periodo diciamo di festa perché questo è un periodo in cui le maestranze magari sono parzialmente in ferie. Siamo soddisfattissimi, contentissimi, si dà maggiore il lustro a un ambiente che è stato già restaurato circa due anni fa, anzi forte di più perché io ero appena entrato in carica, tre anni e mezzo quindi si parla e quindi la libreria Piccolomini acquiste a un ulteriore splendore risornando ai fasti del passato. Apriamo adesso la pagina sportiva con la Robur Siena, un punto della situazione del calciomercato che si è appena aperto e andrà avanti fino al 31 gennaio. Giuseppe Ingrosso. Si è aperto oggi il cosiddetto mercato di riparazione, la finestra invernale che coprirà le prime pagine dei giornali sportivi per tutto il mese di gennaio. Per il Siena non sarà un momento caldo anche perché gli acquisti, come detto più volte da mister Mignani, ce li ha in casa, ovvero i giocatori che per adesso hanno toccato poco o per niente il campo. Cesarini, Belmonte, Bulevardi, Gerli e in un certo senso anche Cristiani, ancora lontano parente dal calciatore della passata stagione. Le operazioni degli uomini in mercato, Dolce e Vaira saranno legate alle uscite, elementi come Fabbro, Nardi per esempio potrebbero chiedere di cambiare squadra per trovare più spazio. Occhio anche al numero di over, giocatori nati prima del 96. La Robur ne ha 14, limite massimo, quindi per fare un acquisto over dovrà cedere un altro over. Intanto i primi movimenti riguardano i ragazzi della Berretti, ma in orbita prima squadra. Cecconi è passato al Badesse, Bonechi al San Donato Tavarnelle. Per entrambi il sogno di ripetere l'esperienza di Romagnoli, cresciuto sei mesi a Rimini per poi entrare in pianta stabile nella Rosa dei Grandi. Bene, questa era l'ultima notizia, l'appuntamento consueto con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Vi ricordiamo che subito dopo il telegiornale andrà in onda l'approfondimento dedicato all'intervista con l'assessore al turismo e al commercio Alberto Tirelli, realizzata dalla nostra Viola Carignani, un punto della situazione su un bilancio che è stato appunto quello delle feste natalizie e quello che succederà. Alle 21 in prima serata per Stelle di Siena andrà in onda la nuova puntata a cura di Giuliano Ghiselli che parlerà della cosiddetta costellazione del rifugio. Domenico Billò, Aurelio e Agostino Chigi e il Cardenale Flavio Chigi. Vi auguriamo una buona serata con i programmi di Canale 3. Grazie per essere stati con noi. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine sinottica attesa per la giornata di sabato ci mostra un'area di alta pressione molto vasta che interessa gran parte dell'Europa, mentre sull'Italia insiste una debole circolazione ciclonica che potrà dar luogo a della modesta nuvolosità anche sulla Toscana. Ma andiamo a vedere le condizioni meteo attese. Per la giornata di domani venerdì cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più nel pomeriggio, venti deboli tendenti a disporsi da ovest, mari poco mossi, temperature minime in ulteriore sensibile calo con forti ed estese gelate anche in pianura, punte di meno 5, meno 7 gradi, temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Per quanto riguarda il fine settimana, nella giornata di sabato cielo a tratti nuvoloso, in particolare sulle province centro-meridionali con possibilità di qualche isolata pioggia. In arcipelago venti deboli e più moderati occidentali, mari mossi a nord dell'Elba, temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi. Tendenza infine per domenica, cielo sereno poco nuvoloso sul nord della regione, qualche nube sparsa sulle aree centro-meridionali ma con basso rischio di precipitazioni. Venti ancora deboli o moderati occidentali, mari a tratti mossi, temperature in ulteriore lieve aumento. Bene, con questo concluso auguro a tutti voi una buona giornata.